Una partita vinta dal Crotone, ma soprattutto dalla solidarietà. I Rosso-Blu allo Stadio Zoscida hanno battuto i miti dello sport giunti a Crotone per un match di beneficenza tra le due squadre. Un evento con un alto obiettivo in uno stadio gremito di ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione di solidarietà in favore dei bambini meno fortunati nell'evento organizzato da SOS Villaggi dei Bambini insieme al Comune di Crotone con il patrocino della provincia. CONI e FIGC in collaborazione con USACLI mettendo insieme sport, divertimento e solidarietà per sostenere tutti insieme i progetti che l'organizzazione porta avanti tramite i suoi programmi. Ci sono, chiaramente raggiungono le condizioni che servono ma soprattutto ci sono perché la presenza e la costanza e la perseveranza è sicuramente qualcosa che ci porta in fondo e che ci fa raggiungere l'obiettivo. Soprattutto in uno stadio come questo dove abbiamo giocato la Serie A a Crotone? Beh, sicuramente è emozionante. Noi siamo abituati a podi olimpici, siamo abituati ai podi mondiali ma entrare dentro uno stadio così bello, così importante è sicuramente una grandissima emozione e noi, miti dello sport, siamo qui oggi per dare un sorriso. E Presidente, quando si tratta di solidarietà il Crotone c'è sempre? Sì, effettivamente è così. Ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di importante soprattutto per i bambini. Questa è un'associazione che è presente in 136 paesi del mondo la più grande che praticamente cerca di fare beneficenza appunto per i bambini più disagiati nel mondo. Una curiosità adesso sul Crotone Calcio ieri la vittoria col potenza molto importante è un motivo in più per raggiungere questo obiettivo? Sì, il motivo in più c'è sempre nel senso che abbiamo una squadra importante purtroppo abbiamo avuto dei risultati altarenanti però adesso sembra che siamo sulla buona strada e speriamo di continuare così. Il ricavato dei biglietti contribuisce a sostenere il benessere psicologico e sociale dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia e per favorire la loro integrazione nel territorio. Senta, che significato può assumere oggi questa giornata così importante per i bambini per le nuove generazioni italiane? Beh, guardate, noi siamo qua e personalmente io campo di solidarietà quindi è una cosa che dovremmo fare tutti questa giornata è una giornata particolare e siamo contenti soprattutto di essere qua in questa bellissima città come Crotone e speriamo insomma di fare bella figura davanti a questi magnifici ragazzi che ci stanno guardando dagli spalti. Questo è quanto ci ha detto il prefetto di Crotone Franca Ferrara su quanto si è svolto a Crotone. Perché adesso abbiamo implementato con il gestore l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati con delle figure professionali ad hoc proprio per i minori mutuandoli dal SAI ma quest'estate ci siamo preoccupati grazie con i servizi sociali delle uscite protette perché ricordo a tutti che si tratta di minori non accompagnati sia le uscite che la tutela dei diritti degli stessi contemporaneo le due esigenze.